ben ritrovati cari amici di radio abm al nostro consueto appuntamento con edicola belun la rassegna stampa quotidiana di radio abm oggi e per tutta la settimana sostituirò appunto nella rassegna stampa il direttore marco crepaz sperando di farlo in maniera abbastanza degna sicuramente ce la metterò tutta cercherò di fare del mio meglio partiamo subito dunque con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 6 luglio partiamo dalla prima pagina del corriere delle alpi vediamo purtroppo il titolo di prima pagina una notizia tragica tragedia appunto nel lago lago di santa croce giovane annega a santa croce per l'appunto questo il titolo che apre l'edizione di oggi del corriere delle alpi la vittima è un rifugiato afgano si era tuffato dal pedalò ma non sapeva nuotare la disperazione degli amici sempre per quel che riguarda la prima pagina del corriere delle alpi di oggi da cortina a vittorio a 30 chilometri l'ora l'odissea dei turisti mordi e fuggi nuovi focolai il veneto chiede un giro di vite per chi rientra dall'estero sempre per quel che riguarda il tema dei focolai del coronavirus badante feltrina torna in italia dopo il soggiorno in moldavia ed è positiva montagna raffica di infortuni alpinista vola in parete tanti gli interventi del 118 scrive il corriere delle alpi durante la domenica un po come avviene in tutte le domeniche e una donna si è infortunata cadendo nella piavea sappada la fiction a san vito di cadore altro titolo di prima pagina un passo dal cielo sbarca sul lago di mosigo pieno di iscritti affonzato per il raduno di auto storiche la manifestazione che ha avuto luogo ieri adesioni in salita del 30 per cento rispetto alle ultime edizioni per auto e moto de naolta gidoni commenta organizzatori coraggiosi come sempre il lunedì avrà tante pagine di sport un'anticipazione la troviamo già dalla prima pagina del corriere storie di sport tormen da trichiana gli anni in serie a poi il trionfo da mister stiamo parlando di antonio toni tormen attualmente direttore sportivo dell'union feltre questo per quel che riguarda la prima pagina del corriere vediamo anche la prima pagina del gazzettino di belluno e ovviamente l'apertura anche in questo caso riguarda la tragedia avvenuta nel lago di santa croce si tuffa dal pedalò annega migrante 26enne la tragedia avvenuta ieri alle 15 e 30 nelle acque del lago di santa croce tante camere vuote negli hotel altro tema che sceglie per l'apertura il gazzettino secondo i dati della dmo dolomiti lente che si occupa di turismo nella nostra provincia nel primo fine settimana di luglio solo quattro stanze su dieci risultavano occupate sempre in tema di turismo nei rifusi troppe regole per i gestori in alta quota anche il gazzettino poi parla della badante positiva nel feltrino attualmente è in isolamento scrive il quotidiano salvato dal soffogamento aiutateci a ritrovarlo è passato quasi un mese da quando la tredicenne di polpetta ponte nelle alpi ha salvato un uomo praticandogli la manovra di emlich una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aere avevamo anche visto avuto modo di vedere nei giorni scorsi la notizia sempre relativa a questo fatto con il sindaco di ponte nelle alpi vendramini che si era rivolto aveva scritto una lettera al presidente della repubblica sergio mattarella segnalando appunto questo episodio che vede protagonista questa ragazzina tredicenne di polpetta ponte nelle alpi viste dunque le due prime pagine dei quotidiani che leggeremo insieme oggi proseguiamo con la lettura del gazzettino si parla di turismo questo il tema in primo piano turismo in vetta esordio estivo da mordi e fuggi il titolo del gazzettino strade parcheggi presi da salto così come anche i sentieri di montagna ma negli alberghi prenotate solo quattro camere su dieci il commento di vantaggi direttore della dmo giuliano vantaggi siamo di fronte al movimento del fine settimana ma resta ancora la grande incertezza nelle strutture ricettive per chi ci sta seguendo in che ci sta seguendo su facebook o su youtube la possibilità di vedere anche le immagini la fotografia di vantaggi che commenta si cerca di tornare alla normalità con il ritorno di quegli stranieri che prima erano il 50 per cento delle presenze i rilievi dell'enit lente nazionale del turismo sugli arrivi aeroportuali danno un calo del 77 per cento rispetto al 2019 nei rifugi troppe libertà altro titolo clienti senza mascherine e distanze fatte saltare questo avviene un po ovunque non solo nei rifugi per quanto si può vedere in giro sembra un po che la gente abbia un po allentato le misure di sicurezza mascherine e distanze che saltano un po dappertutto sempre in tema di turismo tema di primo piano del gazzettino di oggi dolomiti vietate agli americani viaggio virtuale sul new york times il giornale della grande mela porta i propri lettori in escursioni con un servizio sulle vette unesco tramite gli scatti della foto giornalista monica goia tra i rifugi inevitabili essere rapiti da tanta bellezza l'articolo inserito nella sezione viaggi anche sul web con foto del lagazzò i cinque torri e altre montagne appunto altre vette dolomiti che il più commentato sconsolati scrivono noi statunitensi quest'anno non possiamo andarci grazie per averci trasportati lì rallentamenti e solite code disagi contenuti file alla mattina poi rientro in gorghi sulla statale ma poi il via libera in autostrada le gallerie sono aperte anche appunto questo tema in qualche modo legato al turismo agli arrivi di persone da fuori provincia nel nostro territorio 12 anni di battaglia e quattro petizioni nulla si è mosso armando ravizza titolare di gelateria dal 2008 si batte per migliorare cavarzano altro titolo del gazzettino ancora su questa pagina fondi a scuole paritaria vitali per il territorio soddisfazione nel bellonese per il raddoppio dei fondi alle scuole paritarie una battaglia di lega e forza italia l'incertezza sul futuro della scuola aveva scatenato anche il movimento civico belluno sviluppo e futuro di van marchetti e martino fogliato si tratta del gruppo provinciale nato inizio anno come anello di congiunzione tra istituzioni e cittadini che a metà maggio fece anche una diretta sul tema con la deputata veneta della lega angela colmellere segretario della commissione cultura della camera quindi si parla di scuola e dei fondi alle scuole private domenica sul nevegal tanti turisti ancora il tema del turismo delle presenze nella nostra provincia e poi altro titolo altra civetta salvata da un camino bell'esemplare di civetta tenuto amorevolmente in mano da un vigile del fuoco dopo l'estrazione del camino questo per chi ci sta vedendo su facebook o su youtube ha la possibilità di vedere anche l'immagine della civetta scusate che è stata salvata proseguiamo con la lettura del gazzettino eccolo qui il tema del coronavirus badante rientra nel feltrino la donna è positiva al virus è stata la famiglia dell'anziana che assiste ad attivare l'ulsa appena la straniera è tornata dopo il risponso del tampone verifiche sull'assistita e a tutte le persone a lei vicina ai suoi contatti ovviamente per vedere se ci sono stati altri contagi a partire da questa donna una visiera innovativa contro il virus a quero vas la protezione è stata progettata e prodotta dalla ditta pinoptic ha salvato uno sconosciuto vorremmo incontrarlo ancora il tema della ragazzina tredicenne di polpet che ha appunto praticato la manovra salvavita questo sconosciuto che stava soffocando a ponte nelle alpi l'appello della famiglia di sara barattina eccolo il nome della protagonista dell'episodio le tredicenne capo il pet soccorse un uomo nei giorni scorsi era appunto il 9 giugno lo ricorda il gazzettino l'anziano in strada stava soffocando per un pezzo di cibo limana libri in quarantena dopo la consultazione la biblioteca riapre le salette per lo studio ma mette tante regole regole che valgono per tutte le biblioteche quarantena di dieci giorni per i libri una volta rientrati da un prestito migrante si tuffa dal pedalò e muore tema appunto che abbiamo visto in apertura sulla prima pagina sia del gazzettino che del corriere delle alpi l'incidente ieri alle 15 30 nel lago di santa croce vittima un 26enne afgano che non è più riemerso dalle acque l'uomo era con tre amici che hanno dato l'allarme le ricerche del corpo sono durate quattro ore era sul fondo a 70 metri dalla riva ovviamente sotto shock gli amici richiedente asilo raccolto nel centro di via alpago scrive il gazzettino in un primo momento il falso allarme di un annegamento nel piave all'ambioi poi la chiamata del bagnino questa purtroppo la tragedia che è avvenuta ieri arsie sospirolo si gettono in acqua dai ponti multe al corlo ad arsie per l'appunto e al miss siamo dunque a sospirolo perché gesauriti il lago di rocca di arsie preso d'assalto ieri da turisti e vacanzieri dopo la pubblicità dei tuffi vietati la parte delle lettere del gazzettino e poi il fascicolo degli sport quello che si trova ogni lunedì sul gazzettino spazio agli sport appunto del bellunese dalla palla volo al calcio e terzetto quest'anno si parla di calcio di serie d il terzetto è quello rappresentato da san giorgio appena salito dall'eccellenza della serie d e poi le due formazioni che ormai sono storiche nella di il belluno e l'union feltre in questo caso a commentare l'allenatore del san giorgio il nuovo allenatore ferro preannuncia un torneo emozionale con le tre bellunesi pronte a darsi battaglia anche l'ossatura del sedico scrive il gazzettino sta prendendo una fisionomia ben delineata anche se manca ancora un centrale difensivo e appunto spazio a una lunga intervista firmata da egidio pazucca al nuovo allenatore del san giorgio alessandro ferro che appunto si prepara per la nuova stagione in serie d dopo il salto di categoria sempre per quel che riguarda il calcio altro bel salto quello del 18enne piero bon dall'union feltre alla serie a dal settore giovanile union feltre leggiamo una parte dell'articolo la convocazione in prima squadra in serie a con l'ellas verona che ha giocato ieri sera in casa del brescia l'union feltre festeggia con una breve nota comparsa sulla sua pagina facebook uno dei giocatori lanciati dal proprio settore giovanile sul grande palcoscenico basti pensare ai fratelli cosalter che stanno disputando tornei da protagonisti nelle giovanili del bologna si tratta invece in questo caso di christian piero bon centrocampista classe 2002 che gioca abitualmente nella primavera del verona ma che stavolta è stato convocato anche in prima squadra dal tecnico juric complimenti dunque a questo giovane bellunese che si sta creando uno spazio nella serie a nazionale di calcio il nuoto dal caso passiamo al nuoto nuotando con le emozioni a colloquio con gli atleti della sportivamente belluno al termine del primo allenamento dopo quattro mesi di inattività l'acquaticità da reinventare il disagio la motivazione è stato bello anche ritrovarsi siamo come una famiglia una raccolta di alcuni commenti l'articolo affirma di maurizio ferina appunto di nuotatori ritornati all'attività dopo il lungo lockdown sempre per quel che riguarda lo sport resta di bellunese al fischio di inizio stiamo parlando di pallavolo suddivise tra di maschile femminile cb2b sono 9 le formazioni provinciali pronte a scendere sul parche appena le date verranno decise dunque pronte a ripartire anche la pallavolo bellunese tiro con l'arco frezze se ne riparla fine agosto oscar de pellegrin campione bellunese di tiro con l'arco oro alle olimpiadi di londra oscar de pellegrin aspetta la verifica di alcune ipotesi di linea guida per stabilire la data della ripresa dunque un po tutti gli sport stanno riprendendo stanno ripartendo questa sicuramente una buona notizia atletica paola padovan grande ritorno e terzo posto il mio modello guardioli invece questo è un altro titolo si parla ancora di calcio di un allenatore dopo due stagioni altrettante promozioni con il sapada renzo piller molla tutto per sedere sulla panchina del cadore formazione di prima categoria pep stiamo parlando di guardiola l'allenatore attualmente in forza al manchester city che è appunto è preso a modello da renzo piller un po da tutti gli allenatori a dire il vero peppa un gioco imprevedibile anche i miei giocatori sono liberi di spaziare senza dare riferimenti agli avversari intervista dunque al nuovo allenatore del cadore sempre per quel che riguarda il calcio schiara promosso dalla seconda alla prima categoria gran festa a tisoi questo dunque per quel che riguarda il gazzettino abbiamo visto le pagine dello sport del gazzettino andiamo ora a leggere il corriere delle alpi abbiamo visto la prima pagina passiamo alle notizie che riguardano il territorio bellunese il caso nel feltrino positivo una badante moldava era tornata in italia il 2 luglio ieri sottoposti tampone anche i suoi familiari e l'anziana di cui la donna si occupa un approfondimento la storia del 15enne positivo per 74 giorni dura essere separato dalla mia famiglia questo il commento del ragazzino ragazzo di 15 anni di lorenzago rimasto contagiato senza sintomi sono stato impegnato con la scuola racconta poi ho imparato giochi nuovi roberto de michiel questo è il nome del protagonista di questa storia lo vediamo chi può vederlo appunto da facebook da youtube la fotografia festeggiato dalle cugine alla fine della sua lunga quarantena una festa per l'appunto alla fine della quarantena ho apprezzato le piccole cose racconta il ragazzo l'approfondimento del corriere quattro ore da cortina a venezia uno di sé a fra code rallentamenti in auto insieme ai pendolari della vacanza questo il tema appunto dell'articolo si rallenta per un incidente per i cantieri poi il tappo a lungarone un problema che dura ormai da anni nel nostro territorio proseguiamo nella lettura del corriere verso le regionali le elezioni a settembre innovazione sostenibilità per lanciare la sfida a zaia prima assemblea pubblica bellunese per il movimento il veneto che vogliamo portiamo avanti le idee di amministratori locali volontariato e cittadini commentano appunto i promotori di questo movimento che si presenterà alle regionali si tuffa dal pedalòia nega santa croce anche qui la notizia della tragedia venuta ieri a farra sul lago di santa croce il corpo ritrovato a 70 metri dalla riva il giovane rifugiato afghano era andato al lago con tre amici non sapeva nuotare anna spava poi è scomparsa i bagnini siamo accorsi ma erano troppo lontani questo anche il racconto da parte dei soccorritori che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare questo sfortunato giovane si aggrappava mi spingeva sotto il racconto degli amici poi è sparito nell'acqua del lago la disperazione di amadi il ragazzo pakistano che si è buttato dal pedalò per aiutare il 28enne annegato senza purtroppo poter fare nulla per lui un passo dal cielo si trasferisce a san vito la famosa serie tv con protagonista terence il lago di mosigo questa dunque una buona notizia anche per la promozione del nostro territorio andiamo avanti con la lettura del quotidiano il corriere delle alpi feltre auto moto denaolta da un calcio al virus e fa il pieno di iscritti il raduno che si è tenuto ieri a fonzato adesione in salita del 30 per cento rispetto alle ultime edizioni il commento da parte di giudoni bella manifestazione e organizzatori coraggiosi tanta gente in piazza scrive il corriere per vedere da vicino alcuni gioielli storici della meccanica questa dunque la manifestazione che si è tenuta ieri a fonzato che ha fatto il pieno di iscritti incidente con il parapendio a feltre brusco atterraggio ferito il pilota 26enne pagine di cultura e società del corriere delle alpi fiaba d'amore un servo un bambino dolomiti sullo sfondo e la verità della vita detta senza arrossire dialogo libero e schietto sul fragile rapporto uomo natura vidotto scrivo con cuore e onestà non do sentenze lo scrittore francesco vidotto appunto con questa sua nuova opera mele a mel 2020 si cerca la formula per poter organizzare l'evento la fiera autunnale ormai tradizione nel nostro territorio che quest'anno un po come tutti gli eventi si trova a dover fare i conti con il coronavirus potrebbe essere concentrato l'evento in una sola giornata scrive al corriere delle alpi con solamente il mercato senza cortili aperti e senza la possibilità di mangiare vedremo appunto se ci sarà la possibilità di organizzare l'edizione 2020 di mele a mel ce lo auguriamo speriamo che gli organizzatori riescano a farsene in qualche modo una manifestazione davvero importante per il nostro territorio lo sport ampio spazio come sempre lunedì anche da parte del corriere delle alpi allo sport bellunese il primo meeting dopo il lockdown si parla di atletica paola padovan e di bronzo nella giavellotto giovanni santomaso super nei 400 allievi ottimi risultati per i bellunesi nel weekend di gare la porta colori dei carabinieri era rientro dopo un lungo infortunio spazio anche la pallavolo il sedico si proietta in serie c con il sostegno degli sponsor ma l'incognita delle palestre cena per atleti staff e partner con per programmare la stagione confermato coach de salvador il commento di de barba dirigente del sedico programmiamo l'attività con tranquillità salti giochi e tanta adrenalina la mini moto conquista ai bambini altro titolo del corriere un successo il campus per baby rider organizzato dal pilota matteo botteon che commenta appunto passione libertà ma anche grande rispetto delle regole questo il commento del pilota pontalpino via libera agli sport di contatto le società riprendono le attività all'aperto nel pieno rispetto delle norme anti contagio è positivo ma cautela il commento di bortotto della fipav gli sport di contatto che sono già ripresi dalla scorsa settimana un po' tutte le formazioni si stanno organizzando per riprendere in sicurezza ciclismo raduno sulle dolomiti per la donsing quick step la corazzetta belga da oggi al 23 luglio al passo san pellegrino luogo ideale spiegano per affinare la preparazione in vista della nuova stagione tennis per il sinotto ingrid bortoluz alzano la coppa nord cin va in archivio il primo torneo ripreso dopo il lockdown che vedeva iscritti 73 tennisti capò in finale tommaso trevisso e maria elena marcuzzo il personaggio sartori il mago dei muscoli il preparatore atletico sartori detto il giaguaro nello sport tutto è misura questo il titolo con il commento appunto di sartori il giaguaro scrive il corriere fra i preparatori atletici più apprezzati e richiesti in provincia un brutto infortunio ha segnato la sua strada e intervista per l'appunto a sartori che si occupa di diverse società di diverse formazioni in vari sport della nostra provincia sergio sartori calcio anche il corriere parla del talento bellunese piero bon prima panchina per lui in serie a con l'ellas verona centrocampista classe 2002 chiamato da iurici il tecnico appunto dell'ellas verona nella trasferta di brescia grande soddisfazione dell'entiai e dell'union feltre le formazioni in cui ha giocato nelle giovanili sempre per continuare dal calcio la serie di madiotto attaccante ex ormai del belluno firma infatti per la clodiense ringrazio tutti a belluno giovanni madiotto lascia dunque i giallo blu e va a chioggia a giocare per la clodiense de carli il limana somiglia al mio ripa stiamo parlando sempre di calcio de carli ex union e attualmente al limana dopo una stagione al cavarzano limana formazione che è salita dalla prima categoria alla promozione e si è assicurata le prestazioni del portiere de carli per l'appunto non sempre chi investe tanto poi vince i tornei commenta il portiere parteli ha condiviso la mia scelta parte di l'allenatore appunto che de carli aveva lo scorso nella scorsa stagione al cavarzano il cavarzano che ha lasciato appunto per il limana come dicevamo parte lì spiega de carli ha condiviso la mia scelta ci ritroveremo nel derby per l'appunto limana e cavarzano militano entrambe in promozione e intervista anche a de carli nuovo portiere del limana per il calcio a 5 serie b giorix edico preso andrea rossi fabio levis è invece il nuovo team manager della formazione come avevamo visto dalla prima pagina in apertura il personaggio per quel che riguarda lo sport il calcio l'intervista del lunedì appuntamento fisso del corriere in questo caso è il guerriero scrive per l'appunto il corriere delle alpi antonio torna l'attuale ds dell'union feltre con un passato in serie a con il belluno scrive il corriere giocò in serie c poi l'allenatore la promozione in c2 in mezzo una carriera super tra fiorentina udinese foggia e livorno da trichiana alla serie a in una vita da mediano tante anche le fotografie di tony torman nei suoi trascorsi calcistici molto importanti alcuni commenti raccolti che si possono trovare all'interno della lunga intervista che personaggio il paron nereo rocco dava spettacolo anche in allenamento racconta tony torman ancora andai a san siro a 10 anni e disse che lì volevo giocarci ci riuscì nel 1982 contro il milan con il foggia in puglia racconta ancora lascia il cuore lo zaccaria era spettacolare i 20.000 tifosi facevano tremare il campo questi alcuni dei commenti questo dunque per quel che riguarda lo sport del corriere le pagine poi proseguono con lo sport a livello nazionale comunque chi vorrà approfondire troverà tanti temi sia nel gazzettino che nel corriere delle alpi si conclude qui dunque la nostra edizione di oggi del dei edicola belun grazie mille a tutti per essere stati all'ascolto e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di edicola belun grazie a tutti grazie a tutti Grazie.